Allora siamo qui con Caterina dal notaio che abbiamo ben fatto il primo rogito di vendita della sua casa, fra alcuni giorni faremo il rogito di acquisto e le chiediamo come mai sia rivolta a casa idea per la vendita della sua casa. Ma come lo sai molto bene è la seconda volta che facciamo l'acquisto, a volte è un po' diverso perché facciamo anche vendita e acquisto quindi siamo trovati molto bene l'altra volta, nonostante sono passati tanti anni vedo che le cose sono molto migliorate quindi le tempistiche sono molto corte, molto bello, molto assicurativo e niente siamo qua. E questa volta come ti sei trovata? Sei trovata ancora bene con casa idea? Molto meglio di prima, bene e qui degli anni siamo migliorati, sono migliorati molto, molto bene, ma perché ripeto c'è anche vendita e acquisto quindi la prima volta è stato solo un acquisto. Per noi sono molto più... Quindi hai capito che c'era dietro un lavoro anche un po' più complicato da parte nostra e quindi insomma ti sei sollevata perché ti abbiamo aiutato in tutti i passaggi. Assolutamente. Bene, grazie per questa testimonianza e complimenti per la vendita e per il futuro acquisto. Grazie, grazie e buona fortuna anche per voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.